Ciao a tutte ragazze, bentornate! Oggi nail art dedicata al ritorno a scuola, ispirata ad un righello. Seguite il video tutorial per capire come si fa questa nail art. Per prima cosa ho steso una base trasparente per proteggere la mia unghia naturale. Dopodichè con uno smalto giallo coprente ho dato due passate e le ho lasciate asciugare. Con uno smalto nero da nail art ho tracciato delle linee lunghe e corte alternandole lungo il lato destro dell'unghia. In corrispondenza delle linee lunghe sono andata a scrivere i numeri 1, 2 e 3 utilizzando uno smalto da nail art a punta sottile. Basterà passare un velo di top coat per fissare il tutto e rendere la nail art più duratura e il tutorial completo. Fatemi sapere in un commento cosa ne pensate se vi aggiungete il video tra i preferiti o condividetelo su Facebook. Un bacione a tutti ragazzi, ciao! 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 Ciao!